Sì, l'urlo, cioè la voce elevata a potenza, è uno degli aspetti più singolari del genere umano. Si urlava infatti fin dagli albori dei tempi. Traditore, riprendite le tue lettere. Si guidava anche in epoca romana. Si urlava nel Dugento quando tutti i lanzi tentavano di oltraggiare il pudore di le giadre fanciulle. Al giorno d'oggi poi gridano tutti. E in questo palazzo si urla più che in ogni dove. Ascoltiamoli. Dopo questa breve ma esauriente relazione, noi già sappiamo qual è la via da seguire per eliminare la vergognosa piaga dei tè di Bari. Carissimi colleghi, ci mettano per sempre al bando i cantanti urratori. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing. La sai faci la knockout che ti fulmina sul ring. Ma l'effetto di uno show è perciò canto così. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing. La sai faci la knockout che ti fulmina sul ring. Ma l'effetto di uno show è perciò canto così. O, 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 di lui anche il tuo bacio è come un rock. Grazie a tutti.